Ciao a tutti, mi chiamo Francesca Petragello, ho 18 anni e vengo da Giuliano, un paese in provincia di Napoli. Frequento ancora il liceo, il liceo linguistico e studio inglese, francese e spagnolo. Quindi posso dire di avere una buona conoscenza delle lingue, in particolare l'inglese e lo spagnolo, in quanto ho fatto due Erasmus, uno a Barcellona e uno a New York, che mi hanno dato la possibilità di conoscere, di apprendere e di applicare la lingua nel miglior modo possibile. Però parlo pure napoletano, quindi conosco anche il napoletano. Inoltre studio danza da 10 anni, lo specifico danza classica, moderna e hip-hop, però la mia più grande posizione resta sempre la recitazione. Il mio sogno più grande sarebbe quello di interpretare un personaggio completamente distante e lontano da quella che sono io, vale a dire un personaggio con disabilità, di una diversa religione anche, e niente, qualche personaggio che mi faccia scoprire qualcosa del mondo che non so e spero di poterlo fare il prima possibile. Questi sono i miei profili. E niente, grazie mille. Grazie mille.